Sì, perché Stefano Bianco vuole partire con la tuta che indossava ieri al momento della caduta in prova quindi una tuta strappata, ricucita, forse per scaramanzia Allora attenzione alla moto con il numero 33, bianca, rossa e blu per chi volesse individuare Stefano Bianco questo invece è Masao Azuma, abbiamo detto occupa la quinta posizione in griglia problema gomme, allora non c'è il diluvio, non c'è l'acquazzone, c'è la pista bagnatina che forse si può asciugare intanto ovviamente si entra con le gomme scolpite, anche Manuel Poggialli raggiunge lo schieramento ecco nelle immagini direi proprio Stefano Bianco Loris, le gomme? Le gomme è un problema perché se piove come sta facendo adesso, mi dicevano che sta continuando a spioviginare è facilissimo pensare che si deve partire con le gomme intagliate, con le gomme da bagnato grazie a tutti